Trovato un cadavere di un 45enne sulla spiaggia ad Agnone Bagni. Il corpo di un 45enne senza vita è stato trovato sulla spiaggia di Agnone Bagni, frazione di Augusta. L'uomo originale di Catania, quanto pare da una prima ricognizione cadaverica del medico legale, potrebbe essere stato colto da un malore. Il 45enne sarebbe arrivato in spiaggia a bordo della sua auto. Il cadavere è stato trasferito all'ospedale di Lentini nella sala dell'obitorio. Si attende l'esito più specifico dell'ispezione cadaverica da parte del medico legale incaricato dalla procura di Siracusa per capire se siano presenti ferite sul corpo.